Ciao a tutti amici nerazzurri, ben ritrovati su canali di internews.it, ci siamo, torna la Serie A, torna la nostra Inter in via ufficiale, tra poco mancano veramente poissime ore al fischio d'inizio al Marassi di Genova per insomma questa prima giornata di campionato della nuova stagione 2024-2025, partita che si giocherà in contemporanea con Parma-Fiorentina, quindi queste due sfide tra Genoa e Inter e Parma-Fiorentina apriranno ufficialmente i giochi con l'Inter dei Simone Inzaghi campione in carica che proverà a difendere giustamente il titolo. Parliamo di questo ovviamente in questo video approfondimento, analizzeremo insieme la probabile formazione, poi commenteremo insieme a voi live la formazione ufficiale e prima di fare tutto questo ragazzi io vi ricordo l'iscrizione gratuita ai canali di internews.it, bastano pochi secondi e per noi è veramente molto importante il vostro supporto, tra l'altro come anticipavo nei giorni precedenti ripartiamo con le live pre e post partita oltre allo speciale calciomercato oltre a tutte le rubriche che già conoscete nei nostri canali, quindi ragazzi non avete scuse, dovrete per forza iscrivervi, seguirci, supportarci e sopportarci perché appunto siamo veramente sempre in diretta tutti i giorni e quindi detto questo ragazzi vando alle ciance perché oggi si chiacchiererà veramente tanto con questo video, poi il pre partita, poi il post partita e andiamo al sodo. Allora l'Inter appunto come dicevo prima proverà anche in questa stagione a riconfermarsi, cosa non facile l'ha detto anche Simone Inzaghi in conferenza stampa, le aspettative sono altissime non solo da parte dei tifosi dell'Inter ma un po' di tutto l'ambiente perché l'Inter parte praticamente favorita e ovviamente come ha detto anche Inzaghi in conferenza stampa non è semplice riconfermarsi però è anche vero che io penso che quest'anno l'Inter a differenza degli anni precedenti forse è il primo anno in cui non è stata tra virgolette smantellata più di tanto perché per quanti di voi insomma lo so perché lo vedo anche sullo speciale calciomercato critichino molto il mercato dell'Inter perché manca il braccetto, manca l'attaccante e quant'altro è anche vero che è la prima estate in cui siamo abbastanza tranquilli perché non abbiamo perso i pezzi grossi quindi Inzaghi può fare affinamento sui suoi ed eventualmente avere anche qualche soluzione in più e a proposito di questo ricordiamo che oggi non ci sarà Zielinski quindi il nuovo acquisto del Inter oggi appunto è out per infortunio insieme a De Vrij e ovviamente anche insieme a Buchanan che sappiamo avere tempi di recupero molto più lunghi vista appunto la gravità dell'infortunio quindi diciamo che i riflettori per i nuovi arrivati saranno ripuntati tutti su Taremi che tra l'altro ha fatto un ottimo precampionato Taremi che non compare nella formazione ufficiale dell'Inter ma lo ricordiamo anche lui viene da un infortunio quindi se Inzaghi continuerà a gestire gli infortunati come ha fatto anche la scorsa stagione difficilmente lo vedremo dal primo minuto probabilmente a partita in corso eventualmente anzi a partita in corso e vediamo se insomma confermerà quello che abbiamo visto nel precampionato perché ha dato molto da vedere quello che abbiamo visto è stato assolutamente positivo ci sarà anche Arnautovic perché anche lui insomma ha recuperato quindi di fatto Inzaghi avrà il reparto offensivo al completo con Turam e Lautaro Martinez che dovrebbero partire titolari e rivediamo il foro che finora appunto non ha giocato neanche un minuto non l'abbiamo visto neanche nell'ultima amichevole è stato l'ultimo a tornare ad appiano gentile però insomma ha avuto un'estate ricca di impegni e poi le vacanze e poi è rientrato a piano regime insomma con il gruppo e io ho grandi aspettative sull'autare in questa stagione perché tutta la faccenda del rinnovo secondo me ha pesato tanto su di lui e ha alzato ancora di più l'asticella quindi credo che appunto Lautaro debba debba continuare a dimostrare quello che è già dimostrato e deve darci anche qualche risposta in più magari su altri fronti e so che siete d'accordo con me per quanto riguarda magari la Champions League quindi spero che quest'anno riusciremo ad andare avanti il più possibile in Champions e spero che Lautaro riesca ad imporsi però a questo video oggi è dedicato al campionato quindi non voglio andare troppo troppo distante e insomma affrontare troppi troppi discorsi perché il tempo comunque stringe e detto questo Lautaro Martinez, Turam che anche lui l'abbiamo visto in questo precampionato non è tornato prestissimo ma ha fatto il suo gol contro contro il Chelsea quindi buon segnale anche da Turam quindi la coppia d'attacco probabilmente oggi sarà la Tula e vediamo le scelte di Inzaghi a partita in corso so che temete tutti molto Correa però ragazzi spoiler probabilmente Correa forse oggi lo vedremo in campo perché non so quanto leggerà Lautaro Martinez per tutta la partita Taremi comunque è appena rientrato da infortunio Arnautovic è appena rientrato dall'infortunio quindi forse tra tutti diciamo che Inzaghi potrebbe anche pensare di far giocare Correa anche se sappiamo benissimo essere totalmente fuori dal progetto Inter ma vediamo che cosa ci regalerà ancora questo calciomercato da qui alla fine perché mancano ancora un paio di settimane quindi forse anche meno ormai ho perso il conto dei giorni però insomma vediamo che cosa succederà però dicevo Correa forse oggi possiamo anche aspettarcelo a partita in corso per quanto riguarda il resto della formazione ovviamente Sommer importa e nel terzetto difensivo a quanto pare da quello che leggo dovrebbero esserci Bissek, Acervi e Bastoni questa cosa mi fa sorridere perché chi ci segue lo sa io nelle precedenti live ho detto spesso che comunque avrei voluto vedere Bissek in questa prima di campionato sia per dargli diciamo il giusto valore e la giusta riconoscenza nei suoi confronti perché ha fatto un ottimo precampionato quindi penso che sia un giocatore che merita di stare in campo dal primo minuto quello che mi è sembrato addirittura più in condizione, più in forma tra tutti e spero che Inzaghi insomma gli dia la possibilità di giocare dal primo minuto anche perché quest'anno le partite sono tante e me lo aspetto spesso Bissek quindi chissà se da braccetto o da centrale ma credo più da braccetto so che l'esperimento Bissek centrale, Pavar centrale a voi vi emoziona insomma però come ho detto tante volte forse è ancora un po' acerbo Bissek per fare il centrale perché pecca ancora un po' in fase difensiva nonostante abbia un fisico che gli permetterebbe di fare quel ruolo però ragazzi sappiamo che Acerbi è uno dei pochi che ci dà quel tipo di garanzia in quel ruolo il sostituto di Acerbi eventuale di Acerbi e di De Vrij perché ricordiamoci anche De Vrij deve essere all'altezza Bissek lo vedo ancora un po' acerbo chissà vedremo comunque a parte questo dicevo Bissek secondo me dal primo minuto ha senso non vederlo e lasciarlo in panchina sarebbe forse un errore da parte di Inzaghi prendete con le pinze la parola errore ragazzi perché so che adesso arriveranno quelli che nei commenti diranno ma scusami ma lo saprà Inzaghi che mettere in campo sì ragazzi siamo qui per parlarne per discuterne io per quello che ho visto finora considerando che Pavard comunque non ha minuti nelle gambe non l'abbiamo visto praticamente per niente preferisco vedere in campo dal primo minuto un giocatore che finora mi ha dato garanzie e che ho visto in condizione e che secondo me merita la maglia da titolare poi se Inzaghi dovesse schierare Pavard dal primo minuto nessuno si mette le mani tra i capelli perché conosciamo bene il valore di Pavard quindi va bene così però se dobbiamo fare delle considerazioni insomma questa è la mia personale sulla scelta ecco del braccetto di destra e per quanto riguarda il centrale Acerbi ecco capitolo Acerbi riflettori puntati anche su di lui perché secondo me nel precampionato io l'ho visto dal VU a Monza ancora un po' secondo me deve riprendersi bene dall'infortunio che gli ha creato non pochi problemi questa estate vediamo come rientra e ovviamente Alessandro Bastoni nell'unica amichevole persa quella contro la Litiad ci sono stati dei problemini in difesa ma credo che il campionato sia un'altra cosa ragazzi io so che e l'ho detto anche tante volte le amichevoli sono diciamo piacevoli da guardare perché possiamo darci qualche risposta ma non sono troppo indicative di quella che è la stagione io ho sempre parlato di Sommer e di Turam lo scorso anno che nel precampionato non hanno proprio brillato e poi sono stati fondamentali nel corso della stagione quindi spero che invece ecco Taremi sia uno di quelli che ha fatto bene sia nel precampionato e che farà bene anche durante la stagione e andiamo a centrocampo con Darmian favorito a Dumfries sulla fascia destra scelta che ci sta perché insomma anche Dumfries deve ritrovare un po' la condizione dall'altra parte c'è ovviamente Federico Di Marco che spero faccia meglio di quello che abbiamo visto in nazionale sono sicura che sarà così perché ha avuto bisogno di tempo diciamo per recuperare da tutto quello che ha fatto la scorsa stagione in mediana secondo me imprescindibili Barella, Mkhitaryan e Cialanoglu non so perché ho avuto un vuoto, Cialanoglu in capita di regia affiancato da Barella e Mkhitaryan ma perché Mkhitaryan e non Frattesi? ora ricominciamo perché ricominciamo con i prepartita con questa domanda fissa ragazzi non puoi veramente privarti di Mkhitaryan Frattesi è un giocatore che spero quest'anno dimostri una crescita ulteriore appunto dimostrandosi un giocatore che riesce a far bene anche dal primo minuto perché lui è uno di quelli che con i suoi inserimenti e quant'altro riesce ad essere veramente incisivo e decisivo a partita in corso la differenza sta lì, deve cominciare ad essere fondamentale anche dal primo minuto quindi vedremo quando Inzaghi deciderà di schierarlo dal primo perché succederà, gli impegni sono tanti e succederà e voglio vedere questo step in più da parte di Frattesi Turam e Lautaro Martinez li abbiamo già commentati quindi non lo so ragazzi, vediamo se verrà confermata questa formazione ovviamente noi vi aspettiamo alle 17.30 circa in live sui nostri canali per commentare le ufficiali ultima parentesi giusto sulle aspettative allora non è facile parlare di sbilanciarsi più di tanto dopo una stagione come quella dell'anno scorso ragazzi con l'Inter che chiude a più 17 sulla seconda e a più 23 sulla terza è stata una stagione secondo me veramente clamorosa anche per il peso che avevano alla seconda stella era un'ossessione per noi quindi io non voglio dire che non mi aspetto cose come quelle dell'anno scorso perché sembro voler sminuire quello che è il lavoro di Inzaghi però in linea generale penso che sia molto complicato reggere anche un po' il peso delle aspettative e spero che Inzaghi abbia lavorato molto su questo con i ragazzi lui ieri in conferenza stampa ha detto che li vede col sorriso li vede allenarsi col sorriso questo mi fa pensare che non ci sia una grande pressione e spero che effettivamente non sia così allo stesso tempo non voglio vedere diciamo troppa presunzione ecco ci deve essere il giusto equilibrio perché siamo campioni in carica abbiamo fatto grandi cose lo sforzo anno ma quest'anno dobbiamo fare forse ancora uno step in più per quanto riguarda la Champions non essere troppo presuntuosi in campionato che comunque è molto lungo e tra l'altro dobbiamo considerare anche tutto il discorso mercato perché ancora non è chiuso e dobbiamo vedere effettivamente poi quale sarà la rosa al completo di Simone Inzaghi perché in questo momento anche lui stesso ha detto non è al completo mi manca un braccio di sinistra vedremo come finirà la questione attaccanti perché sappiamo che finché non esce qualcuno non entra nessun altro questione liste tanto odiata da molti ragazzi ma questa è anzi recuperate il video sulle liste perché è importante e niente quindi devo dire appunto l'Inter parte favorita sicuramente con un Milan che ho visto bene ma devo ancora cercare di capire soprattutto con il cambio allenatore non è facile quando c'è un cambio così in panchina il Napoli secondo me è ancora molto distratto dalle faccende calcio-mercato Osimen, Lukaku quindi anche lì è da capire la Juventus in questo momento io non la vedo troppo come rivale pericolosa sia anche lì per un cambio molto importante in panchina non perché ti ha romanzato tutto altro quello che ha fatto al Bologna insomma da apprezzare però comunque anche lì c'è stato un cambio importante in panchina e stanno un po' smantellando la squadra cioè fuori rosa giocatori che comunque negli anni passati chiesa sono stati fondamentali non so se questa situazione possa influire positivamente o negativamente su tutto l'ambiente quindi in questo momento ragazzi vi dico che sicuramente vedo l'Inter favorita però c'è bisogno di dimostrazioni ecco quindi cerchiamo di partire con il piede giusto in uno stadio che come ho detto all'inizio del video non è così facile perché appunto il Marassi di Genova l'anno scorso quel 29 dicembre prima di Capodanno ci ha lasciato un po' con l'amaro in bocca per quel pareggio però insomma credo in questa squadra spero di rivedere tutti abbastanza in condizione perché diciamo che le amichevoli precampionato per alcuni versi sono state positive per alcuni versi sono state negative positive perché appunto ho visto un B-Sec brillare ho visto un Taremi comunque dimostrare molto dall'altra parte ho visto dei giocatori che ancora devono prendere un po' condizione mettere minuti nelle gambe quindi speriamo che pian piano insomma ci sia questo miglioramento anche a livello di forma fisica ma sono sicura che sarà così quindi ragazzi nulla buon campionato a tutti fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate su tutte le considerazioni fatte ma soprattutto quali sono le vostre aspettative su questa stagione noi ci vediamo veramente tra poco in live sui nostri canali sempre su YouTube, Facebook e Twitch quindi a più tardi e sempre Forza Inter ciao segui internews.it per restare sempre aggiornato 24 ore su 24 7 giorni su 7 su tutto ciò che riguarda la tua squadra del cuore se sei interista non puoi non aver già scaricato gratuitamente e recentito l'app Android o iOS per avere sempre a portata di mano le ultime notizie sull'Inter ci trovi anche su Facebook Twitter Instagram YouTube e Telegram se sei in cerca di approfondimenti ed esclusive a tinte nero-azzurre internews.it è quello che fa per te a tinte nero-azzurre non ha cantato a tinte nero-azzurre internews.it o